Luciano Gatti è uno dei componenti che ha partecipato al giro Ponte Nostra-Roma e Ritorno, un percorso di 1600 km, com'è andata? E' andata abbastanza bene fino al secondo giorno, poi abbiamo avuto un incidente di un nostro componente, abbiamo un po' sconvolto la situazione ma in compenso è andato tutto benissimo, abbiamo fatto Roma, Loreto e tutto il resto in in su, circa 1600 km. Ecco per noi questa avventura è stata veramente un'esperienza sia dal punto di vista umano che religioso, è stato bellissimo, faticoso ma bellissimo soprattutto quando siamo arrivati a Roma che abbiamo incontrato gli altri nosesi che sono scesi con l'aereo e poi l'udienza dal Papa in piazza San Pietro. Diciamo che ci ha ripagato delle fatiche che abbiamo fatto e comunque è andato tutto bene, parte un piccolo incidentino però poi per il resto è stata una bellissima esperienza anche da rifare. Nell'ambito di questa splendida settimana, due giorni importantissimi sono stati quelli che abbiamo trascorso a Roma insieme ad altre 20 persone di Ponte Nostra che sono scese e con loro abbiamo partecipato all'udienza del Papa. Abbiamo avuto anche la fortuna di poter donare direttamente al Papa il nostro quadro raffingurante l'immagine miracolosa e nel donarlo ovviamente il messaggio di Don Giuseppe è stata la spiegazione del 500esimo e il Papa stesso si è detto onorato di questo bel dono. Purtroppo nella discesa dal passo della Cisa è capitato proprio a me di cadere e mi si è rotta la clavicola. Questo da un lato ha scombussolato un po' i piani ma ha rafforzato ancora di più negli altri quattro la voglia comunque di continuare e di mantenere l'impegno di arrivare e tornare da Roma in bicicletta. Difatti io voglio proprio ringraziare gli altri quattro componenti perché lo smarrimento in quel momento c'era ma vedere la forza che ci hanno messo è stata veramente una grande cosa. È stato un pellegrinaggio significativo che porta avanti il discorso del 500esimo della lacrimazione della Madonna di Ponte Nossa e secondo me si è aperta una strada nuova, si è aperta questa porta che non è escluso che in futuro porti avanti anche un discorso di pellegrinaggi mariani fatti in modo leggermente diverso magari con la bicicletta avendo sempre un obiettivo importante davanti come potrebbe essere come è stato quest'anno per il 500esimo magari l'anno prossimo o tra qualche anno, magari per Meshugori, per Lurdo o qualche altra meta importante e sicuramente è stata un'esperienza molto importante penso per tutti. Ognuno di noi ha tratto sicuramente dei benefici anche a livello spirituale che rimarranno comunque nella memoria di ognuno di noi. Per noi è stata una missione, una missione perfettamente riuscita e compiuta. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa avventura. Quali sono state per voi le difficoltà più importanti che avete trovato? La difficoltà più importante che abbiamo trovato è stata oggi che abbiamo trovato moltissimi chilometri di acqua, abbiamo viaggiato per parecchie ore sotto l'acqua, poi per il resto bel tempo per cui niente di particolare a parte l'incidenza del nostro collega.